Adesso Sibili a titolo personale, quindi un minuto. Sì, semplicemente per riguardare al deputato Tabacci che se noi abbiamo chiamato in causa l'Expo e gli altri ci sono venuti dietro facendo delle osservazioni rilevanti al riguardo, significa che effettivamente c'è qualche interesse su questo argomento. Inoltre volevo riportare le parole del procuratore nazionale antimafia vicario per Luigi Maria dell'Osso, che cito testualmente, in un sistema dove circola meno denaro, cioè il sistema attuale, e i soggetti istituzionali, bancari e imprenditoriali sono indeboliti, le mafie trovano terreno fertile per ampliare i loro affari e riciclare denaro. Un evento come quello dell'Expo 2015 dunque è destinato a suscitare l'interesse di queste organizzazioni. A quanto pare dagli interventi in aula ci sono diverse persone che sono a favore di questo e il Movimento 5 Stelle è completamente contrario. mi sembra che si può andare avanti.